Riva Rolo Canavese, sabato 1 aprile, siamo qua di fronte all'ufficio postale dove a breve verrà inaugurata la panchina rossa donata da Muovi Riva Rolo al comune di Riva Rolo infatti. Un momento importante, abbiamo intervistato il portavoce di Muovi Riva Rolo Pierino Grisolia che ci ha raccontato quello che rappresenta questo momento e la lotta che sia Muovi Riva Rolo che tutti dovrebbero fare contro la violenza di genere. Sicuramente questa giornata è una giornata importante per la nostra comunità dove andiamo a posizionare questa panchina che è un segnale internazionale contro qualsiasi tipo di violenza di genere. Il nostro percorso è iniziato con il convegno di due settimane fa, questo è un altro step e il prossimo sarà andare a consegnare a tutti i comuni che ne hanno fatto richiesta i fischietti rossi che omeggiavamo a fine del convegno perché comunque non bisogna solo fermarsi ai convegni alle belle parole ma poi bisogna passare dalle parole ai fatti. Un convegno ricordiamolo è stato molto importante e molto partecipato dove hanno preso parte anche politici locali, senatori e onorevoli per dire no alla violenza di genere contro le donne ma contro chiunque. È stato un convegno particolarmente interessante e molto partecipato e tutti gli ospiti hanno dato un valore aggiunto a questa nostra lotta che facciamo quotidianamente sulla violenza di genere. Nessuno è stato superiore agli altri ma nessuno è stato inferiore, sono stati bravissimi. Abbiamo investito la politica con delle richieste per quello che è stato fatto fino a oggi ma abbiamo anche fatto delle richieste per cosa potrà fare domani per combattere questa grande piaga che quotidianamente sta sempre prendendo più piede. La panchina si è posizionata qui davanti alle poste di Rivarolo di modo che tutti coloro che passino abbiano l'esempio della lotta contro la violenza. Ringraziamo l'amministrazione che ha accettato questo dono perché non era così scontato e l'abbiamo posizionato in un posto molto visibile proprio perché tutte le persone che chiederanno il motivo di quella panchina si ricorderanno che è contro la violenza di genere. È un segnale forte, in modo silenzioso ma lo vogliamo urlare perché noi comunque siamo anche abbastanza sabaudi, non facciamo tante cose eclatanti ma le facciamo le cose che servono e il nostro territorio da oggi è più ricco con questo segnale. Presente è anche il primo cittadino di Rivarolo, il sindaco Alberto Rostagno. Grazie per la vostra presenza, è un piacere, un onore essere qui a portare intanto i saluti della città di Rivarolo, dei cittadini rivarolesi e a ringraziare l'associazione Muovi Rivarolo per questa iniziativa, che è la seconda iniziativa legata alla violenza di genere. Un evento è stato assai importante, è molto partecipato, si è svolto alcuni giorni fa e questa seconda iniziativa è un momento importante perché è l'occasione per lasciare un segno, un segno che tutti i cittadini, in modo particolare i cittadini che penso tutti i rivarolesi durante l'anno hanno l'occasione di venire all'ufficio postale poi in una posizione in cui è anche visibile dalla strada. Questa panchina, questa panchina rossa appunto che Muovi Rivarolo vuole donare alla città ai cittadini rivarolesi sarà il simbolo di questa violenza. Violenza di genere che non deve essere solo considerata come violenza di genere ma violenza nei confronti di tutti i soffrutti. Quindi chiunque passerà di qua avrà con lo sguardo alla panchina speriamo che mentalmente possa fare dei ragionamenti e pensare che ogni tipo di violenza va condannata e quindi anche essere di buona educazione ai nostri ragazzi e ai nostri giovani per insegnare che la vita deve essere vissuta senza la violenza. Violenza che non deve essere considerata solo violenza fisica ma anche violenza psicologica, violenza mentale. Grazie a tutti.